Amici di Cuneo24, a tutti buonasera. Il tempo sta cambiando, c'è una perturbazione che arriva, vediamola subito, e la previsione per la prossima mezzanotte. Questo fronte freddo qua, che scenderà da ovest e nord-oveste e colpirà il basso al Piemonte, io direi fra questa notte e domani mattina. Poi pian piano passerà, però avremo un rinforzo del vento soprattutto da giovedì, vento settentrionale, un po' di feu, però il tempo tutto sommato, a parte questa notte domani mattina, sarà buono. Ma andiamo a convorti. Oggi cielo molto nuvoloso, tenderà coperto e avremo qualche piovasco, qualche rovescio, non credo, forse qualche temporale, ma i temporali li vedo più a nord del Po. Un po' di neve invece tra 2.700 e 2.800 metri, lo zero termico a 3.500 metri e la giornata si chiude a Cunio quest'oggi in pianura perlomeno tra 21 e 23 gradi come temperatura. Ora andiamo a vedere domani, al mattino ancora molto nuvoloso e qualche residuo a precipitazione. Un po' di neve a 2.300 metri. Nel pomeriggio, sera, deciso miglioramento con cielo poco nuvoloso. Lo zero termico in abbassamento a 3.100 metri, la minima sarà in discesa, intorno 12-14 gradi e la massima tra 20 e 22. Valori che risferiscono rigorosamente alla pianura, non in quota. Ora vediamo giovedì. Farà più fresco, vento da nord, che porterà a tratti un po' di feu. Senza effetto feu, le minime notturne a Cunio saranno intorno 7-9 gradi, le massime tra 17 e 19, ma questi valori per il feu sono destinati localmente ai piedi delle montagne più alte ad aumentare un pochino. Sereno poco nuvoloso, nord sostenuto, 3.500 metri lo zero termico. Finiamo con la giornata di venerdì, inizialmente poco nuvoloso, più nuvole durante il pomeriggio. 3.300 metri, lo zero termico e le temperature saranno ancora in calo. È tutto, grazie e buonasera.